Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV oggi è venerdì 10 novembre e questa è la rassegna stampa occhio ai giornali che apre tutte le mattine la giornata informativa Siamo in diretta e un saluto anche a coloro che ci seguono attraverso i social network Partiamo dal santo del giorno, il santo di oggi è San Leone Magno, è stato Papa Il sole è sorto alle 6.56 e tramonterà alle 16.48 Il cielo già questa mattina su tutta la sua gran parte della regione Marche è molto nuvoloso in alcune zone sta ancora piovendo anche debolmente, seppur debolmente però in alcuni casi anche con carattere di rovescio o di temporale soprattutto lungo la fascia costiera e primo collinare poi nel corso della serata il tempo o perlomeno i fenomeni, le precipitazioni andranno ad esaurirsi Le temperature oggi sono in lieve aumento, le città più calde tra virgolette con la temperatura più alta alle 14, prevista per le 14, saranno fermo e macerata I venti sono di brezza tesa orientale lungo la costa Andiamo a vedere domani, sabato, sabato 11 novembre Vedete non piove più, soltanto deboli o brevi piovaschi lungo la fascia costiera ma soltanto limitatamente al mattino, per il resto il cielo sarà irregolarmente nuvoloso così come irregolarmente nuvoloso sarà anche domenica 12 di novembre però possiamo consolarci per il fatto che non pioverà Le temperature sono, quelle della notte, in diminuzione mentre aumenteranno le temperature massime Ci accompagnerà anche un po' di vento di brezza tesa Probabile transito di una saccatura e evoluzione di una struttura ciclonica chiusa con mal tempo anche per la prossima settimana, soprattutto la prima parte La nostra rassegna stampa anche questa mattina comincia con il Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro, il Corriere Adriatico, il quotidiano delle Marche Rotonda, buona la prima, ma lo stress test sarà oggi Parliamo della rotatoria del cosiddetta del Troni quella che si sta sperimentando in queste ore a Pesaro l'assessore dice temevo più caos invece diciamo che il debutto è stato più che positivo statale verde più lungo per l'ultimo semaforo mentre a centro pagina la fotonotizia è per la Belva di Rimini parliamo dello stupro di quest'estate, gli stupri di quest'estate e la Belva attende la sentenza oggi c'è il processo a carico di Butungu deve rispondere di 10 capi di imputazione il legale della trans stuprata chiede un maxi risarcimento da Fano deve vaccinare suo figlio ma il bambino è morto da anni comunicazione sciocca e di servizio dell'area vasta la mamma, il dolore riaccutizzato sono disgustato, un dolore sempre presente che appunto si è reaccutizzato nel cuore di una mamma che ha perso il suo bambino 8 anni e 6 mesi fa e si è vista recapitare una lettera dell'area vasta che le imponeva di vaccinarlo inoltre al numero indicato per le comunicazioni per due settimane non ha risposto praticamente nessuno lo troverete sulla pagina di Fano ma c'è una notizia in esclusiva che ha il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano il giornale, il Corriere Adriatico che sta diventando sempre più il quotidiano di riferimento anche della città di Fano si schianta contro una casa grave pericolo per fuga di gas l'incidente ieri sera in via Condotti l'urto causa una fontana d'acqua e un blackout la strada è stata chiusa per mettere in sicurezza la zona al lavoro comune Aset, Enel e Pompieri tutti i dettagli in questo articolo di Massimo Foghetti in esclusiva pagina 44 una notizia che troverete solo sul Corriere e non sul resto del Carlino ecco, suo figlio deve vaccinare suo figlio lo deve vaccinare ma il bambino, come dicevamo, è morto da otto anni questa comunicazione shock dell'area vasta una notizia sempre sul Corriere di oggi per comunicazioni ci sarebbe un medico due ore alla settimana ci ho provato ma non risponde e questa è la notizia che troverete a pagina 43 del Corriere Adriatico di questa mattina poi al Tag Hotel oggi si svolge dalle 8.30 alle 18.30 la seconda edizione del corso regionale di formazione ed aggiornamento professionale sulla cura delle ulcere cutanee andiamo sull'altra pagina la pagina principale di Fano del Corriere la fondazione Fano Solidale perde un decimo del suo capitale il presidente dice però abbiamo fatto opere per 1,2 milioni di euro entro l'anno il nuovo ente di comunità dalla Valle del Cesano invece l'eroina è la droga più diffusa tossicodipendenti in aumento allarmanti i dati del servizio territoriale dell'Asur pericolosa alternanza con la cocaina sulla statale e qui torniamo di nuovo a Pesaro sulla statale è girotondo bene così temevo più caos l'assessore Belloni ha seguito l'avvio della rotatoria sperimentale tra le vie Mameli del Monaco e Belvedere resta il nodo dell'ultimo semaforo che rischia di fare da tappo però alla viabilità dunque per questo si allungherà la durata del verde anche l'altra pagina, pagina 3 del Corriere questa mattina si parla di strade di strade e soprattutto di traffico dall'Ardizio a Borgo i rondossi fanno largo il Comune pianifica i lavori presto incontrerà anche i residenti e poi Autovelox metà delle multe servirà a sistemare le strade c'è questo patto tra la provincia e le amministrazioni comunali dunque i soldi che gli automobilisti verseranno perché pizzicati con l'Auto Velox serviranno, sappiano questa è una magra consolazione però sappiano che andranno per sistemare le strade stupri e rapine siamo sulla pagina di primo piano del Corriere stupri e rapine 10 capi d'accusa per Butungo oggi alla sbarra attesa inserata la sentenza per il capo del branco il legale della trans chiede 200 mila euro di risarcimento e poi a Vallefoglia invece ripuliti e più capannoni ma il camion si ritrova i furti, la piaga dei furti nel comune di Vallefoglia il Corriere di Urbino il coraggio di parlare di violenza nei volti martoriati di due donne chi sono queste due donne? Luciann Ibali e Anna Rita Calavalle raccontano agli studenti le trappole del non amore il Rettore Stocchi si è rivolto ai ragazzi per sollecitarli a non abbandonarsi mai a sentimenti di odio e poi sotto anche sul Corriere Adriatico la notizia della mamma con le tre figlie che si laureano insieme una storia tutta da raccontare una festa che c'è stata ieri all'Ateneo di Urbino quest'anno sarà la volta dei tre fratelli maschi una circostanza più unica che rara cioè tre sorelle e la mamma che si sono laureate nell'arco di 48 ore quindi in due giorni si sono laureate tutte e quattro Michela, Sara, Daniela Bardelli e mamma Martina e dunque è una storia che viene raccontata questa mattina anche sul Corriere apriamo il resto del Carlino il quotidiano bolognese già una decina di contestazioni per prescrizioni non appropriate e qui c'è la questione dei medici i medici di famiglia che adesso sono in rivolta sono anche nel Mirino per una circolare regionale che chiede di non prescrivere farmaci costosi insomma sta mettendo il becco soprattutto per cercare di risolvere la questione del costo delle medicine che molte volte è a carico appunto della spesa sanitaria che è a carico della Regione già una decina di contestazioni dicevo per prescrizioni ritenute non appropriate e dunque i medici si sentono un po' nel Mirino sono in difficoltà vorrebbero essere lasciati un po' in pace un po' liberi di prescrivere quello che secondo loro va prescritto ai propri pazienti poi si parla di fideiussione di banca Marche il giudice deve pagare UBI sentenza favorevole il comune sul debito della Pensierini Spa l'impegno finanziario risale a dieci anni fa intanto processo ad Ancona sui mutui concessi a società calabresi per cantieri a Pesero e a Senigallia allora dicevamo dei guardi alla sanità dicevamo di questi medici di famiglia che sono un po' sotto la lente di ingrandimento dieci medici sono stati già multati no ad atteggiamenti punitivi e allarme non riusciamo dicono loro più a fare il nostro lavoro in tranquillità e il presidente dell'ordine presidente pesarese dell'ordine dei medici dice Paolo Maria Battistini i controlli stanno diventando molto asfissianti e anche pressanti indipendentemente da tutto è chiaro che noi non riusciamo più a fare i medici per bene come dovrebbe essere perché c'è questo decreto ministeriale che tra l'altro risale a due anni fa ma gli effetti cominciano a farsi sentire soltanto adesso nei quali appunto questi medici rischiano multe salate se non rispettano una sorta di decalogo attorno alla proprietà della prestazione e alle prescrizioni dei farmaci la pagina di Fano signora suo figlio va vaccinato ma il piccolo non c'è più da otto anni anche qui la notizia poi sotto io 84 anni ho dovuto pagare 92 euro per andare a fare la dialisi il caso delle ambulanze la denuncia di Giovannelli della CISL la vicenda del trasporto sanitario è drammatica inammissibile che un servizio così importante venga affidato ad un'associazione di volontariato e poi fronte comune per riavere l'Isippo quella statua contesa sono stati convocati in regione sia seri che i rappresentanti di cento città e della università e poi ancora la maestra non c'è siamo a Fossombrone chi la sostituisce la cuoca ma la giunta dice tutto in regola perché ha i titoli per farlo l'amministrazione replica Cipriani dopo le proteste dei genitori le famiglie avevano raccolto le firme per chiedere una gestione diversa e sempre da Fossombrone l'assalto dei ladri all'ufficio anagrafe c'è stata questa effrazione all'anagrafe di Piazza Dante martedì scorso nelle ore notturne si sono arrampicati presumibilmente per le grondaie della parte posteriore del palazzo degli uffici e alcuni ladri sono entrati sfondando il vetro di una finestra e poi sono entrati dentro poi da Urbania l'inaugurazione di una mostra nella sala Montefeltro gli incontri d'arte tra Trifilò e Vitangeli andiamo sulla pagina di Urbino venduto Palazzo Chiocci cantiere in partenza primo passo per la riqualificazione della zona dopo varie aste deserte l'immobile è stato ceduto a 700 mila euro ospiterà case e negozi e poi l'altra pagina quella che riguarda Montemaggiore o meglio Colli al Metauro parte da Montemaggiore la sfida per il nuovo piano regolatore al via una serie di incontri per delineare lo sviluppo del comune coinvolti naturalmente i professionisti degli ordini le associazioni di categoria e i cittadini da San Lorenzo in campo invece il ponte passa il collaudo a giorni dunque in via Bagnara ci sarà la riapertura l'ultima pagina quella che riguarda sempre le strade la viabilità l'abbiamo detto in prima pagina le strade le paga l'autovelox sono state premiate Mercatino Conca Monte Grimano e Monte Cerignone circa 160 mila euro delle multe saranno destinate appunto a interventi che riguardano che riguardano le strade e poi la cronaca ancora da Maiolo rubano piastrelle sono stati subito presi dai carabinieri che hanno notato due uomini che caricavano delle mattonelle su un camion e si accorgono che però non erano operai quindi sono stati denunciati due albanesi che sono stati presi mentre rubavano cinque bancali di materiale dal giardino di una villa e tutto passato poi nelle mani dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Nova Feltria ok noi ci fermiamo qui la rassegna stampa occhio ai giornali è finita torna domani mattina alle 7.30 grazie davvero come sempre ai segnalatori ai nostri reporter che attraverso le pagine di Facebook ma anche e soprattutto con Whatsapp quindi avete visto il segnale il nostro numero di telefono Riccardo possiamo rimandarlo per favore così diamo la possibilità grazie ecco 338 49 68 250 memorizzatelo nel vostro cellulare sotto Fano TV e collegatevi con Whatsapp con la nostra redazione e continuate ad aiutarci a fare il nostro servizio servizio se vogliamo pubblico nonostante tutto ok grazie per averci seguito stasera alle 20.30 c'è il telegiornale arrivederci arrivederci grazie a tutti a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.